Omicidio a Vittoria, a morire un vigile del fuoco, Giorgio Sailant, li hanno sparato in piena faccia freddandolo con un colpo mentre stava scendendo dalla propria auto appena parcheggiata sotto casa dove stava rientrando dopo una giornata di lavoro. Il comandante dei vigili del fuoco, Comella, ha ricordato ai nostri microfoni la figura di Sailant non aveva litigato con nessuno e non aveva mai dato problemi, inspiegabile quanto è accaduto ieri al quartiere Forcone di Vittoria. Il MUOS resta sotto sequestro e la sentenza della Cassazione, adesso il Ministero della Difesa dovrà anche pagare le spese processuali. Un nuovo regolamento per le Candelare di Sant'Agata, tra le principali regole, la sottoscrizione di un'assicurazione, comunicare in questura i nomi dei portatori e del responsabile della Candelora, comunicare il giro che si compie. 16 minuti dopo le 14 siamo tornati in diretta con MTG, dunque l'avete sentito dai titoli omicidio ieri sera dopo le 21.30 a Vittoria, una città sotto sciocca, a morire un uomo conosciuto da tutti, un vigile del fuoco, Giorgio Sailant, ancora non si conosce il movente ma soprattutto non si conosce l'autore dell'omicidio. Oggi siamo andati sul posto, Viviana Sammito ha raccolto delle testimonianze e ha ricostruito gli ultimi attimi di vita dell'uomo. Sentiamo. Uno sparo, centrato in pieno volto il bersaglio, la fuga a bordo di un'auto, un omicidio eseguito con freddezza, simile ad un agguato di stampo mafioso, che ha ucciso il vigile del fuoco, Giorgio Sailant, conosceva bene le sue abitudini e ha atteso la vittima vicino casa, ha aspettato che parcheggiasse per sparare. Queste sono le immagini delle forze dell'ordine girate subito dopo il delitto. Proprio qui alle mie spalle che è venuto il delitto, ieri sera intorno alle 21.20 siamo in via Conte Ruggero 45 al quartiere Forcone a Vittoria. La vita di questo uomo era apparentemente serena, così come lo descrivono i colleghi di lavoro ma anche i vicini di casa, fino anche la madre e la sorella. Mia madre è una cosa speciale, unica. Era buono con tutte, con tutte, era buono, tutto, 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 tutto. E' una cosa pazzesca. Scusate. Non vi ho mai dato sospetti, nulla? Vittoria, questa mattina si è svegliata con la terribile notizia, invece i residenti della zona non hanno forse neanche ancora dormito. Increduli e sbigottiti sono avvicinati all'abitazione al civico 45. Tutti conoscono la famiglia, mai nessun diverbio. Mai, mai, mai. Abbiamo avuto cose, mai. Loro erano andati a Milano ed erano tornati. Giorgio e sua moglie dovevano sposare la piglia. Io sono un ministro di culto, quindi sono venuto per consolare la famiglia, non per altro. Conoscevo, perché era molto credente la famiglia, veniva spesso da lei. Sempre in chiesa e tutti insieme. La vittima lascia la moglie e tre figli. Una vive a Vittoria e altre due a Milano. Il corpo di Sailan è stato trasferito all'obitorio del cimitero di Ragusa per l'ispezione cadaverica. Il sostituto procuratore Monica Monego, che ieri è arrivata sul luogo del delitto verso le 22, ha già nominato il medico legale Maurizio Spagni che dovrà eseguire l'autopsia. Le indagini congiunte di Carabinieri e Polizia stanno continuando con approfonditi accertamenti nell'auto sotto sequestro con l'escussione di tutte le persone vicine alla vittima e setacciando telefoni e rubriche personali per capire se Sailan aveva avuto contatti prima del delitto. Vita privata. Su questa principalmente le indagini si stanno concentrando. Sembra che la pista della criminalità organizzata, del gioco d'azzardo e dei debiti non sia quella percorribile. In attesa di ulteriori sviluppi si spera che esca fuori il nome o i nomi degli assassini di Giorgio Sailan oltre al movente. Un caso simile si è registrato sempre a Vittoria dove fu ucciso il 20 settembre 2012 Ivano inglese, un giovane postino incensurato. Questo ancora oggi è un cold case, un caso risolto. Anche Sailan come inglese era un uomo che conduceva una vita serena, ma forse solo apparentemente. E Viviana Sammito ha raccolto anche la testimonianza del comandante del corpo dei vigili del fuoco del comando di Ragusa. Un'intervista che vi proporremo durante l'edizione del nostro telegiornale. Ancora non è pronta. Noi intanto continuiamo con la pagina legata alla cronaca. Un'intensa attività di contrasto di sostanze stupefacenti è stata portata avanti dai carabinieri della compagnia di Vittoria. Due, gli arresti. Sequestrata droga dal valore di oltre 10.000 euro, arrestati due spacciatori è segnalato un assuntore. E' questo l'esito dell'intensa attività di controllo e repressione di attività illecite, con particolare riferimento ad attività antidroga, portata a termine dai carabinieri della compagnia di Vittoria. I provvedimenti sono scattati a seguito di due distinte operazioni. L'ultima, in ordine di tempo, si è registrata nel corso della giornata di ieri, quando incontrata Roccazzo, una Citroen C2, che andava a velocità elevata, è stata fermata dai militari. Alla guida dell'autovettura c'era Michele Marinelli, 22enne di Vittoria, già noto alle forze dell'ordine. Ad incastrare il ragazzo è stato l'atteggiamento nervoso. Dopo la perquisizione personale, si è passati infatti al controllo del mezzo, dove è stata trovata, abilmente occultata, una busta termosigillata contenente 50 grammi di cocaina in pietra, quindi allo stato puro. Il ragazzo è stato ristretto presso la casa circondariale di Ragusa, su disposizione del sostituto procuratore, Monica Monego, a disposizione dell'autorità giudiziaria, davanti la quale dovrà rispondere del reato di spaccio. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 10.000 euro. Sabato sera, invece, durante dei controlli, i carabinieri hanno arrestato Gianluca Zago, 19enne pregiudicato di Vittoria, trovato in possesso di 20 grammi di hashish suddivisi in 5 dosi. Lo stupefacente è stato trovato durante una perquisizione domiciliare, durante la quale è stato trovato nella camera da letto anche materiale per il confezionamento della droga. Durante i controlli del territorio è stato segnalato alla prefettura un assuntore che aveva con sé 5 grammi di hashish. Tutto lo stupefacente è stato inviato ai laboratori dell'ASP per le analisi e continuano le indagini per capire se ci siano complici e quali siano i canali di approvvigionamento della droga. Operazione antidroga anche da parte dei carabinieri della compagnia di Modi, che è stato denunciato a piede libero un marocchino di 33 anni e due i giovani segnalati alla prefettura per detenzione personale. I controlli hanno riguardato Modica Bass, dove erano stati segnalati episodi di spaccio. Sequestrati diversi grammi di cocaina e hashish, controllati due esercizi pubblici, eseguite 14 perquisizioni complessive e 26 le persone identificate. Addosso all'uomo sono stati trovati un grammo e mezzo di hashish e 400 euro in contanti nascosti in una tasca dei pantaloni. Dalla perquisizione domiciliare i carabinieri hanno poi trovato due celofan con quattro grammi di hashish. Il tutto è stato sequestrato. Cambiamo argomento, parliamo del MUOS. Resta sotto sequestro l'impianto di comunicazione satellitare militare USA MUOS, realizzato nella riserva del suggeretto di Niscemi. Lo si apprende da fonti giudiziarie e l'effetto della decisione della Cassazione, che ha rigettato il ricorso dell'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero della Difesa. Rimane vigente l'ordinanza emessa il 1 aprile del 2015 dal GIP di Caltagirone, confermata poi dal Tribunale per il Riesa a Medi-Catania, sul richiesta del Procuratore Giuseppe Verzera, che ha bloccato la prosecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di telecomunicazione nella base americana. La Cassazione ha anche condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali. E cambiamo argomento. Per tutti i giovani che vogliono fare impresa arriva Vulcanic, primo incubatore in Sicilia capace di attivare programmi interessanti rivolte a trasformare le idee in imprese sostenibili. L'opportunità che tanti imprenditori stanno aspettando arriva in Sicilia grazie a Vulcanic, il primo incubatore che nella nostra regione attiva programmi interamente rivolti a trasformare le idee in imprese sostenibili, in grado di affrontare il mercato e creare un impatto positivo sul territorio. L'idea è quella di creare un luogo dove l'innovazione sociale e le imprese tecnologiche possono effettivamente coniugarsi e immaginare progetti legati all'innovazione sociale digitale, ovvero quelle tecnologie abilitanti per le comunità in grado di risolvere sfide dei nostri tempi. I programmi di incubazione da idee e progetto di Vulcanic sono attivati grazie al contributo di investitori sponsor e partner commerciali e mirano a selezionare e sviluppare un'idea in grado di risolvere un problema o migliorare un servizio. Stamattina durante la conferenza stampa che si è svolta proprio presso la sede di Vulcanic sono state presentate le tre call, ossia i tre ambiti in cui si può investire. Orto in hotel con la partnership e l'hotel Sheraton di Catania, Copap con la partnership di Conf Cooperative e innovazione sociale digitale. Noi abbiamo una realtà, quella regionale, che ha tante opportunità, dobbiamo abituarci a una logica progettuale che ci consenta di scrollarci un po' da quella impostazione alla quale siamo abituati, in base alla quale l'economia si fa sui bilanci pubblici. Noi sappiamo che i bilanci pubblici ormai hanno le dimensioni che hanno e quindi bisogna che i giovani imparino a fare impresa ed evidentemente ci deve essere una rete che li assista. L'idea di poter permettere al personale di cucina di accedere ad un piccolo orto nel quale trovare sempre la frutta, la verdura di stagione per poter lavorare e portarla sul piatto al cliente, per noi è sembrato un inizio per ritornare in maniera contemporanea un po' al passato. Depositato in Commissione Bilancio l'emendamento alla finanziaria che servirà a rimpinguare i fondi necessari per consentire al Libero Consorzio Comunale di Ragusa l'erogazione dei servizi indispensabili, oltre al regolare pagamento degli stipendi al personale dell'ente. E quanto scrivono i deputati regionali Orazio Ragusa, Nello Di Pasquale e Pippo Di Giacomo, dopo l'incontro avuto con il Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta e l'assessore regionale al Ramo, Luisa Lantieri. E' chiaro che vigileremo, scrivono i tre deputati, affinché tutte le tappe possano essere rispettate, non dimenticando che, in primo luogo, esiste un problema estremamente serio che riguarda da vicino gli studenti disabili e le loro famiglie. Sul mancato pagamento delle retribuzioni dei dipendenti della SPM interviene la Camera del Lavoro di Ragusa. Ad oggi il personale della SPM, scrive il sindacato, vanta tre mensilità non pagate in arrivo la maturazione del mese di gennaio. In verità, scrive, sappiamo, dice la CGL, in quale modo e con quali risorse l'amministrazione sia riuscita temporaneamente a risalire ai ritardi passati sia per i dipendenti comunali che per quelli della SPM. E oggi sappiamo che era una mera finzione far passare la momentanea e derivata capacità di cassa dell'ente sua condizione permanente ed effettiva. Ci spostiamo, andiamo in territorio catanese dove arrivano delle novità concernenti la festa di Sant'Agata. Fissare le regole affinché la partecipazione delle Candelore alla festa di Sant'Agata si svolga nel rispetto più assoluto della legalità nonché della tradizione della stessa festa. E questo lo scopo e il nuovo regolamento per la partecipazione delle Candelore alla festa della Santa Patrona. Le Candelore partecipano alla processione per l'offerta della scera del giorno 3 febbraio e precedono la processione di Sant'Agata nei giorni 4, 5 e 12 febbraio. Eccetto il cerio di Monsignor Ventimiglia e le altre Candelore non partecipano ai festeggiamenti alle 17 di agosto. A tutte le associazioni che hanno l'uso alle 12 Candelore viene erogata da parte del Comitato nell'ambito delle spese dei festeggiamenti una somma di denaro a titolo di contributo economico variabile in base al numero dei portatori finalizzata a consentire la partecipazione alle Candelore ai festeggiamenti ufficiali alla Santa Patrona. Da qui anche la necessità di un nuovo regolamento affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. Il Comitato per la festa di Sant'Agata potrà proporre all'associazione anche la sottoscrizione di un non protocollo di trasparenza e legalità che verrà predisposto allo stesso comitato d'intesa con la prefettura di Catania. I ceri e le Candelore dovranno avere l'assicurazione dovranno indicare preventivamente il percorso alla questura e al comune nei giorni soprattutto precedenti i percorsi tradizionali del 3, 4 e 5 dovranno rilasciare la ricevuta per le varie donazioni e quindi chi non si attiene a queste regole ovviamente rischia di non partecipare più alla festa. C'è un lavoro comune per rendere la festa ancora più ordinata, ancora più bella. Oggi presentiamo questo regolamento e siamo certi che la festa andrà bene anche quest'anno. Torniamo in territorio ragusano per parlare di un tema di strettissima attualità. Le unioni civili domani troveranno discussione per quanto riguarda la legge in Senato e ieri a Ragusa si è manifestato a favore delle unioni civili. Sentiamo. Sveglia Italia e questo è il claim che è arrivato da 100 piazze italiane tra cui anche quella di Ragusa che ha aderito alla mobilitazione nazionale a favore delle unioni civili. La mobilitazione è stata promossa da arci gay, arci lesbica, agedo, famiglia Alcobaleno e MIT in vista della discussione al Senato del DDL sulle unioni civili che verrà discusso domani. A Ragusa le associazioni si sono dati appuntamento in piazza San Giovanni. Non è più possibile, ribadiscono i presidenti di arci gay e agedo Ragusa, rispettivamente Emanuele Micilotta e Anna Battaglia che in Italia non si è previsto un riconoscimento giuridico per le coppie dello stesso sesso. Un'indiscriminazione insopportabile scrivono priva di giustificazioni. Anche a Ragusa dunque si procede alla raccolta di firme per chiedere al governo di legifirare al più presto per fare in modo che non ci siano più discriminazioni e approvare la legge che riconosca la piena dignità e i pieni diritti alle persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali. I diritti di milioni di persone e per far approvare il decreto legge GERINA quindi perché la parità di diritti è una cosa che riguarda tutti è una cosa importante anche per le persone omosessuali appunto. Stiamo facendo questa battaglia per i diritti di tutti. Adesso torniamo a parlare del nostro servizio di apertura l'omicidio di ieri sera a Vittoria. Come anticipato poc'anzi Viviana Sammito ha incontrato oggi il comandante dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa e ha raccolto la sua testimonianza sul ricordo del collega ucciso. Sentiamo. Giorgio Saylan, 57 anni i vigili del fuoco tutte le mattine andava a inviare dei platini a Ragusa questo era il suo ufficio una carriera fortunata un lavoro sempre svolto con passione un dolore portato con dignità tra i colleghi questa mattina tornare al lavoro è stato diverso Giorgio Saylan fino alle 20.15 di ieri sera era in questa sede e scherzava con i colleghi. Mi dicono il turno smontante con il quale chiaramente lui si è scambiato il servizio il turno montante appunto è stato molto cordiale ha salutato con delle battute molto scherzose e è andato via tranquillamente per raggiungere la sua abitazione. Il comandante dei vigili del fuoco Aldo Comella ha in mano la scheda che riguarda la carriera di Saylan era il coordinatore del dispositivo di sicurezza a livello provinciale dal 1983 nei vigili del fuoco dopo sette anni in giro per l'Italia era tornato a Ragusa nel 1996 era stato promosso capo squadra ed era partito per svolgere il servizio a Pistoia lo stesso anno era rientrato a Ragusa dove nel 2013 aveva ricoperto il ruolo di capo reparto nel turno di fino a ieri sera? Sicuramente in questi quattro mesi da quando mi sono insediato ottimi rapporti e andando indietro parlando anche con i colleghi perché in queste occasioni chiaramente poi si fa un pochettino si pensa al trascorso di carriera non ha dato mai diciamo modo di pensare è stata sempre una persona che ha fatto il suo servizio in maniera impeccabile e diciamo che dal punto di vista appunto disciplinare non ha avuto mai delle situazioni da rilevanti Mario Benenati cardiologo per professione fotografo per passione ha raccontato uno dei suoi ultimi viaggi protagonista sabato scorso l'Asia tra la Cina e il Pakistan sentiamo fotografie e racconti nelle terre di mezzo scatti che ritraggono le meraviglie dell'Asia tra la Cina e il Pakistan e quanto raccontato sabato pomeriggio a Palazzo dell'Eva Modica da Mario Benenati cardiologo di professione fotografo per passione un regalo per gli appassionati delle avventure e i curiosi del mondo scatti che immortalano quattro viaggi intriganti alla scoperta di popoli straordinari atmosfere incantate altre due tappe saranno organizzate per raccontare altri paesaggi la prossima il 13 febbraio dove si parlerà del viaggio verso Cuba sempre a Palazzo dell'Eva e poi il 5 marzo si esplorerà l'Europa e l'Africa con le foto che raccontano la Romania e il Marocco racconteremo il viaggio in Ladakh un paese straordinario un paese indiano una regione indiana al confine tra la Cina e il Pakistan che presenta aspetti di straordinaria bellezza e di grande fragilità la manifestazione è in collaborazione con l'Inner Will Club Ragusa Centro e con l'Uni 3 ed è gestita e organizzata dal Centro Studi sulla Contea di Modica e del suo presidente l'architetto Eugenia Calvaruso Leopardi e i Volti di Dio di Salvatore Borzi al sabato letterario Caffè Quasimodo di Modica il libro presentato sotto forma di saggio ha aperto l'ottavo appuntamento della stagione culturale 2015-2016 del Caffè Letterario Borzi docente di lettere nel liceo classico di Acireale dottore di ricerca di filologia ha tenuto un dialogo sull'altro Leopardi con il presidente del circolo Domenico Pisana è stata presentata l'immagine di un Leopardi cercatore di Dio e dell'assoluto legato alla Bibbia e alla fede cristiana del suo tempo un'immagine diversa rispetto a Leopardi poeta ateo questo è stato l'oggetto di discussione che è emerso all'interno della lettura dei testi leopardiani a cura di Daniela Fava insieme all'intervento di Michele Armenia Domenico Pisana e Borzi la serata si è conclusa con gli intermezzi del quartetto di Clarinetti diretto dal maestro Francesco Di Pietro 35 minuti dopo le 14 c'è la pubblicità tra poco 39 minuti dopo le 14 siamo tornati in diretta apriamo questa seconda parte con un servizio del nostro ufficio commerciale ieri la Basaki Fitness Club ha festeggiato il settimo compleanno della struttura sportiva di via Nino Martoglio di Ragusa a caratterizzare l'open day diversi corsi che si sono susseguiti dalle 10 alle 16 con gli insegnanti e i Kleber una giornata dedicata al fitness al wellness e all'intrattenimento è gremita la sala grande della struttura sportiva per i Basaki Sgo Talent nel quale si sono esibiti i Kleber e i istruttori nelle varie performance dal canto ho fatto un pezzo di Ben Harper Diamonds on the Inside un pezzo famoso che mi piace molto eseguire al ballo oggi è il settimo compleanno abbiamo organizzato questa festa per tutti i clienti nostri anche non clienti stiamo divertendo una bella festa speriamo di condurla al massimo delle nostre c'è tanta partecipazione anche di pubblico iscritti e non iscritti alla Basaki il bello è questo appunto far venire gente che non è iscritta per coinvolgerla in questa grande festa dal cabaret ho raccontato una cosa che mi piaceva veramente portare ad un pubblico un po' più ampio che non fosse solamente la nostra famiglia pubblico eterogeneo pubblico eterogeneo sicuramente e niente sono i racconti della nonnina della bisnonna che ci intratteneva a fine di ogni pasto per le sere di Natale nelle cerimonie comunque dove eravamo tutti riuniti un momento esilarante che ha visto sposare la passione per lo sport per la salute e il benessere personale all'aggregazione sociale e all'amicizia questa la vera filosofia della Basaki come le sembra questo momento dedicato all'intrattenimento in un contesto in cui si fa tanto sport bellissimo perché è sempre un momento per ritrovarsi per essere in compagnia degli amici la Basaki non è solamente sport ma anche intrattenimento certo soprattutto specialmente quando fai il compleanno Basaki settimo compleanno settimo compleanno ci inventiamo anche come cabarettisti l'open day di ieri ha mostrato il meglio di un'offerta di corsi vastissima di alto livello che si è concluso con l'emblematico taglio della torta al quale hanno partecipato l'intero staff i kleber e i non iscritti simpatizzanti riuniti per festeggiare insieme i sette anni di questa solida realtà sportiva la palestra Basaki Fitness Club Ragusa da noi non è solo lavoro fisico perché uno immagina sport devo faticare campionati al di là di questo c'è anche proprio lo star bene tutti insieme conoscersi e passare una serata come questa che veramente è bellissima qualcosa di dolce si può anche consumare sempre si può consumare sempre guarda dolce si può consumare sempre soprattutto oggi e a proposito di attività fisica apriamo la pagina dedicata allo sport undicesima vittoria per la passalacqua su una forte battipaia battuta sul punteggio finale di 81-64 la partita ha avuto un primo tempo combattuto ma durante il terzo quarto la squadra ha messo in campo le qualità e potenzialità che l'hanno portata a quota 30 nella classifica del campionato a pari merito con il Lucca Nino Molino coach della squadra dichiara è stata una partita nella quale abbiamo alternato cose pregevoli con errori banali ma nel corso dei 40 minuti questo ci sta e anche questa volta la vittoria conclude il coach Molino non è stata mai in discussione parliamo adesso della palla a mano le sconfitte ci possono stare ma non in questo modo troppi errori da parte degli arbitri errori che alla fine ci hanno condizionato noi non ci stiamo e avanzeremo le nostre rimostranze in federazione e il presidente della palla a mano ragusa Giuseppe Giras a sottolinearlo a margine del match giocato in trasferta con l'Etna Masca Lucia con cui si è perso con il risultato di 26-23 sono le 14 e 44 minuti non ci sono aggiornamenti da parte delle agenzie pertanto questa edizione termina qua grazie per averci scelto e arrivederci alle prossime edizioni Grazie a tutti